Ehi la turma, io sono Mezzatessa ed eccoci oggi qui su Staxel Staxel è un gioco in pre-alpha che mi è stato passato diciamo in anteprima per provarlo E' già disponibile all'acquisto ma è ancora molto in alpha e andremo a vederlo un attimo Si tratta di un sandbox che è un po' un mix diciamo tra Minecraft, Cube Worlds per la grafica Come potete già vedere dall'immagine qui e Stardew Valley o Harvest Moon comunque Perché dovremmo gestire una fattoria al suo completo quindi con coltivazioni e animali Vi mostrerò subito quello che è il mio mondo in single player dove ho avuto modo di provare per benino le funzionalità base del gioco Ancora non ha tutto, tra l'altro vi faccio notare la build con la quale sto giocando è quella del 21 maggio 2017 Cambiano moltissime cose visto che è una pre-alpha quindi potrebbe cambiare molto quando state guardando questo video Ogni volta non so se è un bug o cosa ci apre la personalizzazione, la creazione del personaggio che ha davvero parecchi aspetti E può essere modificato sia come capigliatura che come occhi che comunque con il resto Ho creato un personaggio femminile più che altro perché ci sono molti più capelli femminili quindi ho deciso di fare così questo personaggio qua Allora, il gioco, ah in pratica come in Stardew Valley c'è una zona del villaggio che è questa zona che stiamo andando ad esplorare ora Dove ci sono dei personaggi che per ora danno delle piccolissime quest che sono niente di che Ci sono gli esercizi commerciali, alcuni negozietti piccoli che vendono roba e le abitazioni degli abitanti Per esempio qua c'è Rosemary Is there something on my face? No niente, sei bellissima Mentre invece questa qua è la nostra fattoria dove possiamo andare a creare e fare tutto quello che vogliamo Un po' come in Stardew Valley, a lei ci troviamo tutta la casa in pratica in rovina Con delle erbacce, poi tutto pieno di alberi, rocce eccetera eccetera E pian pianino andremo a creare quello che è il nostro ambiente con le piante, con gli animali eccetera eccetera Qua potete vedere ho piazzato un alveare che consente la produzione di miele Qua ho delle piante, degli zucchini e delle melanzane Qui c'è l'abitazione con la cuccia del gatto che però non vedo adesso Qua ci sono delle altre piante che sono andato a predisporre Ci sono dei cespugli, un po' come in Maintest, che portano le bacche E qui c'è una grande varietà di alberi Come potete vedere questi sono tutti alberi diversi Cioè in realtà non potete vederlo perché non ci sono i frutti Questi qua davanti sono 5 di arance Ma gli altri sono tutti alberi diversi Ci sono anche le palme che occupano più spazio Qui ci sono dei frutti, degli ortaggi dorati In questo particolare caso si tratta di un pomodoro d'oro Qui è la shipping station che ho posizionato in questa zona Che permette di spedire gli oggetti e guadagnarci Questo è il nostro simpaticissimo maialino Tra l'altro ogni cosa è personalizzabile Cioè possiamo andare per esempio a rimuovere un blocco di terra O di qualsiasi altra cosa, facciamo che andare con il martello che così vi mostro Per esempio andare a rimuovere questo blocco qua e sostituirlo con qualcos'altro La casetta è già costruita quando la troviamo ma si può modificare a proprio piacere Come per esempio ho costruito da zero questa fattoria qua Questa specie di stalla dove ho messo all'interno due mucche Muffin e Moo che sono dei nomi che sono stati dati in automatico Possono essere rinominate con le loro mangiatoie eccetera eccetera La parte dell'allevamento è ancora molto in cantiere Perché per esempio gli animali ancora non mangiano e non tutti producono oggetti Questo è il nostro vicino Che è bugato anche lui perché continua ad avere fame nonostante abbia cibo Queste sono le nostre due galline Un pollo e una gallina Non so se lui è un tacchino forse Credo che sia un tacchino E quella mentre invece è la gallina che ci lascia le uova Ah il miniccio che mi segue Questa è una pecola Beh il nome è proprio molto originale E niente questa in pratica è la fattoria che sono andato a creare Anche il recitello là l'ho costruito completamente Io qui c'è un piccolo stagnetto che ho mantenuto perché consente di pescare C'è anche un amo Vi faccio vedere molto rapidamente come funziona il mini gioco della pesca Tanto per è una cosa un pochettino diversa dal solito Non mi era ancora capito di trovare una simile Non è difficile Ma ci può stare ecco per raggiungere un pizzico di interesse in più nell'azione del pescare Ecco adesso quando dico pesco Ah ok Allora 1 e 3 1 e 1 Dobbiamo premere in pratica quello che ci dice Talvolta esce qualcosa di un po' più complicato E quindi ci chiede combinazioni di tasti Ma sempre dall'1 al 4 La forza del gioco è assolutamente il fatto di poter reagire completamente con qualsiasi blocco Abbiamo qui intorno come caratteristica peculiare di Minecraft E quindi ci dà una larga possibilità di modificarlo completamente secondo i nostri aspetti Tra l'altro è modificabile non solo la zona della nostra fattoria Ma anche quella del villaggio e dell'isola circostante Ci troviamo su un'isola Come possiamo vedere dalla mappa Che tra l'altro è molto particolare Perché in pratica è come se fosse una sorta di creative mode Che ci permette di muoverci un pochettino Come potete vedere siamo su un'isola Ci sono vari biomi che per ora non aggiungono niente Ma aggiungeranno qualcosa in futuro Per renderli più utili E di tutta l'isola possiamo modificare ogni singola cosa Per esempio ho visto gente che aveva distrutto le case dei villaggeri Per venderne gli oggetti e diventare ricco O altre cose simili Ed è davvero 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 un ottimo gioco Che ha davvero del potenziale Non l'ho trovato ancora su Steam Perché è in pre-alpha e arriverà su Steam entro la fine del 2017 Mi hanno promesso gli sviluppatori Per ora lo potete trovare sul loro sito internet Che metterò qui sotto in descrizione Vi ripeto che è una pre-alpha E quindi moltissime cose non funzionano completamente a dovere Ah non vi ho fatto vedere bene Qua c'è ancora componente di abbigliamento A cui possiamo accedere comprando degli oggetti Come per esempio Mi pare che ci fosse un headset Ecco Comprando un headset Lo troviamo poi disponibile fuori il giorno dopo Che viene spedito E possiamo andare qua nel guardaroba A modificare un po' il nostro look Con oggetti comprati in gioco Ci sono anche dei server Per cui esiste il multiplayer Ma sono ancora un pochettino Poco presenti e poco frequentati C'erano componenti di crafting Come potete vedere Con dei vari stand differenti E in futuro verrà aggiunta anche Qua appunto ci sono le varie ricette Verrà aggiunta anche la possibilità di creare Pavimenti, tetti, recensioni eccetera eccetera Ma ora come ora non sono state aggiunte le ricette C'è anche una specie di Piccolo Elenco di achievement Barra missioni da compiere Ma nulla di che Qua ha anche una storia di achievement Con le cose catturate Qua l'unica che c'è ora Più che altro come test È la peregina Da aggiungerla Niente Questo è quanto Io Sono davvero stato molto colpito Da questo giochino Spero che continuino a svilupparlo bene Spero che continui ad avere questo successo Che sta avendo adesso Probabilmente lo porterò in futuro sul canale Magari con una live O con una serie In parallelo a Stronier O in sostituzione ad Stronier Adesso vedremo C'è poco da fare Per cui io adesso in un Diciamo Paio di pomeriggi Sono riuscito a completare Ogni Vedere ogni singolo aspetto del gioco Ma Molto ancora c'è da vedere Ed è comunque carino Da poter portare in futuro sul canale Io vi ringrazio per aver visto questo video Vi ricordo che in descrizione Potete avere il link Al sito Per saperne di più Su questo Staxel Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Vi invito a lasciare un mi piace Un commento Iscrivetevi se per caso non l'essi già fatto Ciao a tutti E buona giornata Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti